Buonasera, sono Eleonora Pisperani per le interviste e questa sera ho un personal fitness coach, master trainer in PNL, ossia in programmazione neurolinguistica, è laureato in scienze dello sport, è formatore e motivatore e tanto bravo da essere responsabile internazionale, sto parlando di Paolo Zimono. Buonasera Paolo! Buonasera Eleonora, grazie per ospitarmi qua sul tuo canale e grazie anche per la bellissima presentazione. Allora Paolo iniziamo col dire innanzitutto in soldoni chi sei e che cosa fai. Ok, chi sono? Come già hai introdotto tu, sono un personal fitness coach, ovvero mi occupo di coaching e di allenamento, di fitness, per cui tutto quello che riguarda il miglioramento della salute sia a livello fisico, ma anche il miglioramento e anche la motivazione a livello mentale, per cui se dovessi raggiungere, se dovessi fare un riassunto molto veloce, io prendo le persone per mano e le porto a raggiungere il loro obiettivo nell'ambito della salute. Questo è un po' un riassunto di quello che faccio. Esatto, di essere master trainer in PNL, come noi sappiamo, programmazione neurolinguistica è una materia che sa un po' da manipolazione. Cosa dici tu, cioè riguardo a questa cosa? Allora, riguardo a questa cosa qua, dipende. L'affermazione che tu hai fatto è vera per metà, ovvero la PNL è un qualcosa di eccezionale, è una scienza che studia appunto il cervello, i comportamenti dell'essere umano, e quando una persona impara a utilizzare e a sfruttare al massimo, al 100% il proprio cervello, può veramente ottenere qualsiasi cosa. Per cui una persona che impara queste tecniche di appunto PNL, effettivamente ha la scelta, può utilizzarla a buon fine per aiutare gli altri, come faccio io, oppure può utilizzarla per fini, diciamo, poco buoni, poco legali. Tutto questo dipende ovviamente da i valori che una persona ha, cioè quali sono quelle regole, quelle emozioni che guidano la vita di una persona. La PNL ti aiuta anche a capire quali sono queste linee guida della tua vita, qual è il tuo scopo. Dopodiché una volta imparate queste regole, queste tecniche e via dicendo, comunque ci vogliono degli anni sia di studio che di pratica. Una volta imparate ovviamente ognuno può fare quello che vuole, può usarle come vuole, indubbiamente. Una cosa molto importante che io consiglio a tutte quante le persone è quello di almeno leggere qualche libro su questa PNL, proprio perché così, avendo qualche base, qualche infarinatura, una persona può essere capace di capire se chi ha davanti è una persona che sta cercando di aiutarla o se è una persona che invece vuole raggirarla, imbrogliarla. Allora, per cui questa... quando mi hai spiegato che le persone che vengono da te fanno una sorta di colloquio iniziale perché tu vuoi capire la vera motivazione che spinge quella persona a voler cambiare. Esatto. Esatto. E vorrei che spiegassi molto bene quanto è importante questo colloquio e che cosa esattamente capisci della persona che hai di fronte? Certo. Grazie per la domanda. Questa qua è una cosa molto importante che io applico con tutti quanti i miei clienti e che mi aiuta veramente a raggiungere il risultato desiderato da ogni persona. Proprio perché, per farti proprio un esempio pratico, le mie consulenze conoscitive, per cui neanche si inizia a lavorare. Dura almeno due ore. E in queste due ore una cosa fondamentale è andare a capire qual è il vero obiettivo di una persona. Ti faccio un esempio pratico perché così è più facile da capire. Tempo fa è venuto da me un papà di 44 anni che come obiettivo, quando si è rivolto a me, aveva l'obiettivo di tonificare. Tonificare vuol dire tutto, vuol dire niente. C'è un obiettivo troppo generico. Allora, con delle domande specifiche, con dei lavori anche in cui ha dovuto scrivere, rispondere a delle domande, dopo un'oretta abbondante di lavoro, è uscito ed è emerso che il suo vero obiettivo era ritrovare quella energia per poter giocare con i suoi figli. Per cui lui era venuto lì pensando di dover tonificare, ma per lui la vera motivazione che lo spingeva a intraprendere un percorso di fitness e di coaching era ritornare ad avere quelle energie che gli permettevano di giocare con i suoi figli. Per cui una volta capito il vero motivo che spinge una persona a intraprendere un percorso, poi tutto il percorso sarà più facile, sia da parte mia perché potrò programmare molto meglio gli allenamenti e i vari esercizi da fare, ma anche la persona sarà molto, ma molto, ma molto più motivata e anche più concentrata su dove vuole arrivare, evitando il classico mollo tutto dopo un mese perché tanto non ho nessun risultato. Qui questa cosa di capire veramente dove vogliamo andare è veramente una cosa importantissima sia per noi stessi, ma anche quando, come nel mio caso, quando lavoro con dei clienti. Quindi facciamo un esempio, una ragazza viene da te e dici io voglio perdere peso e tu gli dici vediamo se è vero, scopriamo l'arcano. Quindi che cosa succede? Andiamo in profondità. Ok, allora con questa ragazza che ha questo diciamo obiettivo generico, innanzitutto si va a lavorare su un obiettivo più specifico perché dire io voglio dimagrire, come detto prima vuol dire tutto vuol dire niente. Se io parlando con il mio cervello dico io voglio dimagrire, il cervello inizierà a far di tutto per farmi dimagrire, ma dopo che ho perso mezzo chilo il cervello ha già fatto il suo, ti ha fatto dimagrire. Per cui inseriranno tutti quanti a livello inconscio tutti quei processi per cui non avrò voglia di allenarmi, mangerò schifezze, starò sul divano. Mentre è importantissimo dire al nostro cervello io voglio pesare 70 chili entro il 31-12-2021. Per cui bisogna essere specifici, bisogna metterci un peso, oppure una taglia, ad esempio io voglio indossare di nuovo i pantaloni taglia 40 della, che ne so, di una marca, magari ho un pantalone preferito là nell'armadio che non metto più. E poi cosa molto molto importante è che le persone si scordano molto spesso di fare è di mettere una data di scadenza al proprio obiettivo. Per cui se avete degli obiettivi, anche chi ci sta guardando, metteteci sempre un obiettivo specifico misurabile e poi ho anche una data di scadenza entro quando voglio raggiungere quell'obiettivo. Ovviamente deve essere una data plausibile che si può ottenere. Nell'ambito del fitness ci penso io a trovare una data giusta, perché se una persona mi dice voglio perdere, pesare 60 chili e ne pesa 70, lo vuole fare in un mese, non è una cosa ecologica, non si può fare. Per cui aiuto io anche la persona a trovare una data che sia ecologica. Ritornando all'esempio di prima della ragazza che vuole dimagrire, dopo aver capito in maniera più specifica e più tangibile dove vuole arrivare e dentro quando vuole arrivarlo, c'è la domanda diciamo quella più importante, ovvero per chi e perché lo fai. E lì diciamo si comincia a scavare un pochettino dentro di sé per capire per chi quella persona vuole dimagrire. Molto spesso ci cerca, si inizia un percorso di dimagrimento per se stessi, per piacersi di più, per avere più autostima. A delle volte mi è capitato anche che il percorso inizia perché questa persona vuole riconquistare l'amore di una persona o vuole anche raggiungere un obiettivo sportivo, per cui l'obiettivo dipende anche da qualcosa di esterno. Per cui bisogna capire per chi lo facciamo e perché. Qual è quella fiamma dentro di noi che ci accende e ci farà fare tutta quella fatica e tutte quelle azioni che abbiamo bisogno per raggiungere l'obiettivo. Nella PNL tu mi dicevi due cose molto interessanti che era quel verso da, anzi via da e verso, mi dicevi, correggimi tu se sbaglio, verso cosa? No ricordami qual è il punto. Esatto, via da e verso. Via da e verso sono delle leve motivazionali che smuovono qualsiasi persona. Ci sono certe persone che vanno via da, cioè io voglio dimagrire per non essere più brutta, per cui vanno via dall'essere brutta per raggiungere un qualcosa di diverso, oppure io voglio dimagrire per essere più sicura di me stesso, ok? Per cui vanno verso. Ok. Per cui diciamo queste sono le due leve motivazionali che a livello diciamo probabilistico smuovono molto di più le persone e queste cose te le dicono le persone. Quando tu parli con una persona inconsciamente già questa nelle frasi che dice ti mette già se vuole andare da qualche parte o se vuole andare via da qualcosa. Allora, il tuo lavoro è importantissimo. Tu eri poi tra l'altro titolare di una palestra, cioè tu hai anni e anni di esperienza, hai viste e passati tutti i colori, ma quello che io dico è che tu sai quanto è importante la cura di una persona, cioè tu dedichi tanto tempo a tante attenzioni e si fa questo lavoro in due, cioè non solo lui, la persona che viene da te, ma tu impieghi tantissime energie per aiutare quella persona. E c'è il famoso Mick che mi dicevi. Se vogliamo dire qual è il segreto del Mick? Allora, il segreto del Mick è il segreto che fa fare, che fa ottenere qualsiasi cosa a qualsiasi persona. Mick non sta altro che muovi il cuore, se vogliamo essere, non usare francesismi, se invece vogliamo essere perché francesismo è muovi il ulo, ok? Benissimo! Per cui qualsiasi cosa io voglio ottenere devo iniziare a muovermi, devo iniziare a fare. Per cui uno può avere qualsiasi scusa, qualsiasi cosa, ma se non inizia a fare, anche un semplice passo, anche una semplice prima azione, non otterrà mai l'obiettivo che vuole. E il mio compito come appunto personal fitness coach è quello di far Mick molto costantemente le persone, per cui dargli degli input, dargli degli stimoli per dargli la prima spintina, il primo movimento di inerzia, in maniera tale poi da far partire tutto quanto la ruota, tutto quello che ne va a catena e far ottenere i risultati alle persone. Specialmente, secondo me, in questo momento storico, la tua figura è importantissima perché tanta gente si è lasciata andare, si è chiusa in casa, perché poi tutto questo influisce anche sull'umore. Come tu mi insegni, se una persona si muove, poi sta proprio bene anche di tono, di spirito. Quindi più che mai il tuo lavoro, secondo me, oggi è importantissimo. Tu aiuti a ritrovare anche l'autostima oltre al discorso. Esatto. Esatto. Mente e corpo vanno avanti di pari passo. La mente influenza il corpo e di conseguenza il corpo influenza la mente. Quando noi ci alleniamo, quando noi ci muoviamo, quando andiamo a fare anche una semplice passeggiata, noi andiamo ad attivare tutta una serie di processi biochimici all'interno del nostro corpo e, come hai detto tu, siamo anche più felici perché stimoliamo la serotonina. Per cui fare attività sportiva ci permette anche di essere più felici. Non solo perché magari perdiamo del peso o tonifichiamo, ma proprio perché a livello biochimico all'interno del nostro corpo avvengono delle reazioni biochimiche che stimolano degli ormoni che ci fanno sentire più felici. Ti chiedo un'ultima cosa. Il dialogo interiore, e tu hai detto, veramente ci tengo che tu dica bene quali sono le leve di questo dialogo interiore, che ognuno di noi dovrebbe essere positivo, però vorrei che tu specificassi bene l'importanza di questa cosa. Esatto, esatto. Come ho già accennato prima, noi dobbiamo imparare a parlare al nostro cervello. Il nostro cervello è un qualcosa di eccezionale, che ha una potenza che nemmeno noi immaginiamo quanto sia potente, quante cose ci può far fare. Per fargliele fare però, dobbiamo dirgliele e dobbiamo parlargli in modo corretto, in modo positivo. Un consiglio che do a tutti quanti è quello di eliminare, ad esempio, gli avversativi. Il primo tra tutti, il non. Se io dico io non fumo più, io non bevo più, il nostro cervello non registra la parola non, non la conosce. Per cui, a livello inconscio, ci farà continuare a fumare, troverà sempre una scusa per farci fumare, troverà sempre una scusa per farci bere. Questo vale per tutto. Ad esempio, l'esempio più classico che sicuramente tutti quanti avranno sperimentato. Quando un amico o un'amica si lasciano con il partner, ah, io non troverò più un uomo che mi maltrata, ah, io non troverò mai più un uomo scansa fatiche. Dopo un mese, dopo due mesi, ne trova uno uguale, identico a quello di prima. Ecco! Proprio perché il nostro cervello, quando noi diciamo, ah, io non voglio, io non troverò, io non farò, il cervello invece ti farà fare a livello inconscio, per cui tu non puoi controllare queste cose. Perché, piccola parentesi, noi quando viviamo la nostra giornata, per la maggior parte del tempo andiamo avanti col pilota automatico, per cui facciamo delle azioni, prendiamo delle decisioni a livello inconscio. Questo qua è dato appunto dal nostro dialogo e dalle nostre esperienze. Per cui, se il nostro dialogo è positivo, inconsciamente prenderemo decisioni positive. Se il nostro dialogo interiore è negativo, ovviamente prenderemo decisioni negative. Chiuso parentesi. Per cui, dobbiamo iniziare a parlarci a noi stessi in modo positivo e anche esagerare. Passami il termine, dobbiamo essere un po' paraculi. Quindi, ti riporto un mio esempio che mi è servito tantissimo quando ho iniziato a fare palco, per cui quando ho iniziato a parlare davanti del pubblico, davanti a me su un palcoscenico. Quando ho iniziato, ho iniziato a lavorare assieme a un mio collega che era sulla rivista di For Men, per cui un bel ragazzo, tutto muscoloso, occhi azzurri, molto carino, eccetera, eccetera. Per cui, io avevo questo confronto. E allora cosa ho iniziato a fare? Io ogni mattina, davanti allo specchio, mi ripetevo, tu sei il più bello del mondo, tu sei il migliore. E questa cosa qua mi ha permesso di affrontare un pubblico, una sala, una platea, anche in maniera molto più rilassata, più serena, perché non mi sentivo a disagio, ma mi sentivo alla stessa altezza del mio collega. Questo è un esempio molto... che mi è capitato a me e che ho utilizzato io, ma ce ne sono un'infinità. Per cui dipende tutto da come ci parliamo e come piace dire a me, come faccio con me stesso e come faccio anche con i miei clienti, gli dico, avete questa potenzialità, avete questo cervello, ma siate un po' paraculi, raccontatevela, ditevela bene e così otterrete ciò che volete. Perché se già magari siete in una situazione di difficoltà, ancora vi parlate male, vi date la zappa sui piedi. Se invece è una cosa che dipende da me, esclusivamente da me, ma raccontatela bene, ma dittela bene, ma stai tu felice con te stesso, raccontati le cose in maniera positiva, in maniera propositiva e di conseguenza, proprio a livello inconscio, il nostro cervello ci farà prendere e ci farà fare delle azioni o ci farà prendere delle decisioni che ci porteranno a ciò che vogliamo, a ciò che desideriamo e a ciò che ci meritiamo. Perché siamo qui proprio per vivere questa nostra vita, divertirci ed essere felici. Fantastico. Se posso, se posso, c'è questo esempio qua del paraculo, lo troviamo su un libro che molte persone avranno letto o che avranno visto il film The Secret. Questo libro, questo film racconta che se tu pensi talmente intensamente a una cosa, questa cosa accadrà. Questa è proprio la spiegazione di quello che dicevo prima. Se io penso, adesso esco e mi viene il raffreddore, adesso esco e mi viene il raffreddore, adesso esco e prendo freddo, stai pur certo che esci e quando torni a casa c'hai il raffreddore. Se invece io mi racconto, anche se fa un po' freddo, io sono forte, ho delle buone difese immunitarie, il freddo non mi fa paura, torno a casa e sto bene come prima, a parità di condizioni. Condivido. Assolutamente sì. Allora, diciamo subito, quindi per chi fosse, vabbè, tu sei, specificiamo nella zona in cui tu sei, in quale regione, in quale città? Io abito in Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Gorizia, nello specifico a Monfalcone. Che bello, molto bene. Quindi, cari signori, Friuli Venezia Giulia e di Monfalcone, ma anche non, perché il nostro Paolo fa anche lezioni. Perché lavoro anche online, per cui seguo tante persone anche online, non solo dal vivo. Esatto, quindi se volete un personal fitness coach con i controppiocchi, sappiate che Paolo Zimolo è disponibile. Cercatelo su Facebook perché appunto si trova ed è, peraltro, una persona molto accogliente, molto carina. E poi soprattutto vi porta a casa il risultato, perché giustamente lui vi capisce, capisce quali sono le leve sul quale giocare. E poi da lì... I tasti su cui premere per ottenere... Esatto, esattamente. Quindi se anche cercate l'amore della vostra vita, andate da Paolo che Paolo in qualche modo... Ho aiutato delle persone a fare anche questo, eh. Vedi, vedi. Quindi, insomma, dico, è molto bravo, è molto preparato, quindi cercatelo assolutamente. Un'ultima frase al popolo italiano che ti possa, come dire, ricordare per questa illuminazione? Ecco. Beh, io voglio recitare il mio mantra, che è quello che mi guida sempre ogni giorno. Se vuoi ottenere qualcosa che non ho mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Hai capito, eccola. Per cui molto spesso le persone continuano a fare sempre le stesse azioni e hanno sempre gli stessi risultati. Nel momento in cui io cambio una virgola, cambia la mia vita e posso iniziare a tendere alla felicità, se non ce l'ho, o a migliorare la felicità che già ho. Che meraviglia! No, vabbè, Paolo, fantastico. Ora abbiamo capito perché, appunto, Master Trainer internazionale. Quindi saluto Paolo e ringrazio tantissimo per essersi lasciato intervistare. Saluto tutti voi e do un abbraccio e un bacio. Grazie, grazie a te, Leonora, per la possibilità e anch'io do un grande saluto a tutti quanti. Grazie, grazie mille. Buona serata. Buona serata a tutti.